Maxi posto di blocco ad Arezzo in zona Carbonaia, la strada che costeggia il raccordo Arezzo-Battifolle. In tre ore gli uomini della post-strada di Arezzo hanno effettuato una raffica di controlli, passando al setaccio decine di mezzi che transitavano su quel tratto di strada. Quattro le pattuglie della Polizia Stradale in Azione, coadiuvate dal personale dell'ANAS e della Polizia Municipale ed affiancate dalle unità cinofile di Firenze, specializzate nel fiutale stupefacenti. La grande operazione è iniziata intorno alle 9 di giovedì mattina e nell'arco di tre ore sono stati fermati 91 veicoli, 14 invece i soggetti sanzionati e 20 verbali levati per violazioni al codice della strada, per un ammontare di circa 2.100 euro. Sono stati inoltre sequestrati due veicoli per mancanza di copertura assicurativa ed in totale sono stati decurtati 48 punti dalle patenti nel corso della maxi-operazione.